Le immagini che ci arrivano in diretta da Piazza Garibaldi. Adione potente a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missione. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Ci è stato donato senza nostro apporto. Il fatto che io viva non dipende da me. Il fatto che ci sia... Il fatto che io viva non dipende da me. Veri, digno e diusti, eccomi salutar. Nostibi sempre dubbique grazias acere. Domine, Sancte, Patta, Omnipotente Eterne, Deus. Grazie a tutti.